Viene inavvertitamente lasciato cadere un vaso al suolo. Il vaso si rompe nell'urto in tre pezzi di massa uguale m. L'urto è tale che il centro di massa resta fermo mentre i pezzi si muovono sul pavimento orizzontale. Due pezzi di vaso si muovono in direzioni perpendicolari, asse y e asse x, lungo il verso positivo, con la stessa velocità in modulo v pari a 0,1 metri al secondo. Calcolare la domanda A, l'angolo alfa che forma la velocità del terzo pezzo con l'asse x, domanda B, il modulo di tale velocità. E' il problema numero 6.11 del testo intitolato Elementi di fisica, meccanica e termodinamica, mazzolti, nigrovoci ed ises, case editrici sono il testo, sono gli autori mazzolti, nigrovoci, è un problema anche questo facile, risolveremo tutti, ve lo dico, i problemi di questo capitolo, un capitolo riguardante i concetti di quantità di moto, ma appunto anche prima di calcolo di posizione, velocità e accelerazione del centro di massa che abbiamo trattato nella spiegazione. Il problema è molto facile, attenzione ai dati, c'è un punto in cui l'urto è tale che il centro di massa resta fermo. Allora, intanto, cosa vuol dire che il centro di massa resta fermo? Vuol dire che la velocità del centro di massa, dunque vi ricordo che in generale la formula che ci consiste di calcolare il vettore velocità del centro di massa è m con 1, v con 1, velocità del primo pezzo, più m con 2, v con 2, velocità del secondo pezzo, perché ci dicono che il vaso si rompe purtroppo in tre pezzi, mi viene in mente il mio nonno che mi diceva, attenzione quello è un vaso cinese, quindi sarà mica un vaso cinese questo, fratto che cosa? Fratto m1 più m2 più m3, però il dato 2 che io non ho messo, ma vandrebbe messo, è quello secondo cui m1, dunque il dato 2 per la verità sarebbe da mettere, quello secondo cui la velocità del centro di massa è 0, perché ce lo dicono, il centro di massa resta fermo, il dato 3 lo aggiungo io, è m1 uguale m2 uguale m3 uguale m, ma sei sicuro? Beh, lo dice il testo, il vaso si rompe nell'urto in tre pezzi di massa uguale a m, sotto quindi diventa m più m più m che fa 3m, sopra raccolgo m e mi rimane questa somma vettoriale tra v con 1 più v con 2 e v con 3, sono le velocità dei tre pezzi, dei tre cocci, come direbbe, no? Come direbbe la Roma, i cocci nella parola italiana, m e m se ne vanno e viene quindi fuori questo, un terzo, somma vettoriale di v con 1 più v con 2 più v con 3 e la velocità del centro di massa. Però, questo è 0, e quindi moltiplicando per 3, tre se ne va, guardate cosa otteniamo, otteniamo un'importante equazione vettoriale secondo cui v con 1 più v con 2 più v con 3 è uguale a 0, ma allora questo significa che v con 3, la velocità del terzo pezzo, del terzo frammento, è meno la somma vettoriale di v con 1 più v con 2. Che significa questo? E ve lo dico io che significa, guardate, questo è un problema, se avete visto il problema di prima con il 6.10, che riguardava un po' il moto che è caduta di un grado, quindi le equazioni della cinematica, questo riguarda un po' di agio vettoriale. Occhio a quello che ci dice poi successivamente il testo, due pezzi di vaso si muovono in direzioni perpendicolari, quindi, e ci dicono che l'asse Y e l'asse X, lungo il verso positivo, allora questa è l'asse X, ce lo dice il testo, e questo è l'asse Y. E che vuol dire che, cosa vorrà dire? Beh, vorrà dire che questa, per esempio, può essere una velocità del primo pezzo e questa l'altra. Ma allora, perché ci dicono che si muovono in direzioni perpendicolari, quindi saranno queste, no? Adesso i versi non li so, però, tenete presente che se io applico la regola del parallelogramma, supponiamo che questo sia V1 e questo sia V2, supponiamo, e V3 che è meno, questa è la diagonale, ora, ovviamente, cosa vorrà dire? Se è meno, chiaramente, attenzione perché, cosa possiamo dire qua? Beh, intanto che l'angolo fra, dunque, intanto chi è il mio V3? Beh, sarà questo, no? Giusto? Per esempio. Ma allora l'angolo chi è? Se 45 è questo, presidio di direzioni perpendicolari, ma questo è un quadrato, è un rettangolo, un quadrato, angolo netto alla metà è 45, 135 gradi, quindi la domanda A, alfa è ovviamente, la domanda A, alfa non potrà che essere 135 gradi, no? Cioè sarà 45 più 90, sembra evidente. Tra l'altro, chi è il modulo? Spondiamo anche alla domanda C, e da quello che avete visto, basta applicare il problema di Pitagora per la domanda C. Chi è V3? Beh, da quello che abbiamo visto, V3, il modulo, perché il modulo di tale velocità, V3 è la radice quadrata di che cosa? Avete visto prima, V1X al quadrato più V2X al quadrato. Ma le due velocità sono le stesse, ce lo dicono. Il modulo, 0,01 più 0,01, ovviamente è 0,02. Se ne fate la radice di 0,02, viene questo 0,14, 0,141. Il testo dei Mazzotti mi sembra che metta un 0,14. Quindi questa è 0,14 circa metri al secondo. No, questa non è la C, è la domanda B. Qui termina tutto, ragazzi. Qui termina tutto, eh. C'è altro, questa è la B. Ragazzi, è facilissimo questo. Bene, basta un po' di agio per il vettoriale. Non ci sono problemi, non abbiamo avuto assolutamente nulla di risolvere questo problema, nel quale i dati ci dicevano tutto per una facile risoluzione. Ciao a tutti.